Siamo con una dei tanti stendisti, l'affluenza è aperta da poco, però com'è? Beh, per essere diciamo proprio i primi momenti si è già presentata piuttosto discreta. Stiamo aspettando con ansia gli arrivi dei treni speciali degli svizzeri, sperando che sia una giornata estremamente proficua, soprattutto per animare la città in questo momento particolarmente delicato. Ecco, qui vediamo tanti pensierini di regalo natalizie. Sì, sono tutte delle tisane prettamente a tema natalizio, proprio con le fragranze che ricordano tutto lo speziato, proprio a tema estremamente natalizio, cannella, arancio e scorze appunto di agrumi. Lei come stendista da quanti anni partecipa ai mercatini di Natale? Tanti anni, da quando abbiamo già organizzato col comune che facevamo qua al piazza Stazione e dopo avevamo organizzato sia per la provincia che qua a Domodossola, adesso non so, ma è già tanti anni. Cosa ne pensa di questa location? Le piace? È bellissima, credo che sia più comodo anche per la gente perché è più visibile, invece là c'erano dei banchi che rimanevano nascosti, invece qua c'è più ampio spazio. Anche questo stand è dedicato alla Natale, la gente cosa fa? Si ferma, acquista o guarda soltanto? Si ferma, guarda, chiede se è un prodotto realizzato a mano, se sono stati utilizzati i materiali di prima qualità, di che tipo, che tipo di legno, il vetro, come se può essere utilizzato all'esterno, la lanterna piuttosto che, e insomma spiego poi nel dettaglio tutto quello che riguarda la tecnica evolutiva del prodotto. Sicuramente ritengo che nel mercatino devono essere presenti i prodotti di qualità, quindi io farei una distinzione fra prodotti artigianali e prodotti industriali, sicuramente. Questo sì. Sta scegliendo anche lei qualche idea regalo? Ma sì, stiamo guardando, è molto interessante, molto bello. Qui siamo al banchetto della Casa di Riposo, che tutti gli anni lo presenta, tutti fatti dagli ospiti e dai volontari, e quindi ho visto che c'è bellissima gente, quindi è una bella iniziativa, tutti gli anni ci siamo e quindi mi fa anche piacere. Signora, ha comprato qualcosa per Natale? Sì, ho comprato delle sciarpe, delle sciarpine qui, per il bimbo che è per me, per mia nuora. È conveniente comprare i mercatini? Sì, sì, poi c'è molta novità, c'è molta scelta, è molto bello. Poi è una cosa anche solidale, tra di noi ci sono tanti mercatini che fanno belle efficienza, sono belli, molto belli.